Dopo una prima sommaria bonifica dell'area di fondo caiazzo lasciata abbandonata all'indomani del trasferimento in massa degli occupanti dei prefabbricati leggeri nei nuovi alloggi popolari ACP di via Montetaccaro, restano a stazionare nel degrado soltanto tre famiglie che sono in attesa di capire quale è il loro destino abitativo. Famiglie che ancora oggi denunciano un degrado quanto mai pericoloso per la loro salute. L'azienda speciale infatti incaricata di realizzare una prima sommaria bonifica dell'area avrebbe contribuito ad accentuare il degrado depositando nella piazzetta dell'ex villaggio prefabbricato copertoni e pneumatici rivenuti e raccolti all'interno delle varie strutture abitative in corso di smaltimento. Una vera bomba ambientale che preoccupa anche i vicini abitanti della nuova zona residenziale di via Badia. Ma non c'è solo questo pericolo ad incombere sulle famiglie rimaste malinconicamente a presidiare questo vergognoso avamposto post sismico. Inquieta infatti la massiccia presenza di amianto riverso in ogni parte dell'area. Addirittura qualcuno ha sversato parti di carne fumarie di amianto provenienti da altri siti, ben impacchettati in cellofane depositate in una zona periferica del fondo. Altro pericolo è poi rappresentato dall'alimentazione dell'energia elettrica ancora presente all'interno dei prefabbricati smantellati, come dimostrano anche i contatori ancora attivi. Segnali questi che lasciano intendere quanta sia l'improvvisazione adottata dall'amministrazione comunale per il traslogo di massa dei nuclei familiari, non tenendo poi minimamente conto dei pericoli ecoambientali che potevano prodursi una volta che la zona fosse stata completamente abbandonata.